In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i quei sospiri più ardenti che mi ammettano a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino estretto e la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie del Signore è con te. Tu serai benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Oh mio Signore Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno Mi fondo in te Oh mio Signore Cristo Gesù Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno Cristo Gesù Venga il tuo regno Mi fondo in te Mi fondo in te Mi fondo in te Oh mio Signore Oh mio Signore Oh mio Signore Per adorarti Per adorarti Nel tuo volere Emanue 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 Nel tuo volere, oh mio Signore, non sono io, più che vivo, ma tu che vivi in me. Dal Libro di Cielo, volume 7, 20 novembre 1906. Continua il mio povero stato pieno di amarezza, ma di pace, per le quasi continue prevazioni che subisco. Appena all'ampo l'ho visto dicendomi, figlia mia, l'ubbidienza è un muro irremovibile, e tale rende l'anima. Non solo, ma per essere irremovibile è necessario essere forte, robusto, e l'ubbidienza comunica la fortezza divina in modo che tutte le cose innanzi alla fortezza divina che lei tiene restano deboli, in modo che essa può smuovere tutto e ad essa non la può smuovere nessuno. Ed è sparito via. Capitolo 69, 28 novembre 1906. Continuando il mio povero stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù e pareva che si trasformava tutto in me, in modo che se io respiravo, io sentivo il suo respiro nel mio, se io muovevo un braccio sentivo muovere il suo nel mio, e così di tutto il resto. Mentre ciò facevo mi ha detto, Figlia di letta mia, vedi in che stretta unione sto io con te, così voglio te, tutta unita e stretta con me, e questo non ti credere che lo devi fare quando soffri, o preghi solo, ma sempre, sempre, se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità, ed uscisse da me il tuo operato. In modo che non dovresti essere tu altro che la scorza, e rotta la scorza della tua opera, si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina. E questo devi farlo a bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti, perché facendo tu tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità, perché essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevi i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me, quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo, onde facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare, ad ottenere e a contenere tutte le creature in te, ed il tuo operare si diffonderà a bene di tutti, sicché ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Pare che sto dicendo tanti spropositi, sono cose intime e non so dirle bene, vorrei scriverle come le tengo nella mente, ma non posso, mi pare che una goccia di luce prendo e cento me ne sfugono, avrei fatto meglio tacendo, ma del resto sia tutto a gloria di Dio. Capitolo 73 dicembre 1906 Non venendo il benedetto Gesù, sentivo tale amarezza, non solo ma come un intoppo nel mio interno, da rendermi quasi irrequieta. Oddio, che pena che paragonata a tutte le altre pene, non sono altro che ombre, anzi, refrigerio, è solo alla tua privazione che deve darsi il nome di pene. Ora, mentre smaniavo, alla sfuggita è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto Che hai? Quietati, quietati. Eccomi, non sono solo con te, ma in te. E poi non voglio questo animo inquieto, tutto deve essere in te dolcezza e pace. In modo da potersi dire di te quello che si dice di me, che non vi scorre altro che miele e latte. Figurato il miele nella dolcezza, il latte nella pace. Io ne sono tanto pieno e inzuppato che vi scorre fuori dai miei occhi, dalla mia bocca, e in tutto il mio operato. E se tu non sei così, io mi sento disonorato da te. Che mentre abita in te colui che è tutto pace e dolcezza, tu non mi onori, mostrando fosse anche l'ombra minima di un animo risentito ed inquieto. Io amo tanto questa dolcezza e pace, che adonta che si trattasse di cosa grande, di mio onore e gloria, non voglio, non approvo mai. Quei modi risentiti, violenti, fuocosi, ma quei modi dolci, pacifici, perché la sola dolcezza è quella che è come catena in catena i cuori, in modo da non potersi sciogliere, è come pece che si attacca, non si possano liberare, e sono costretti a dire in quest'anima c'è il dito di Dio. Perché non possiamo agire diversamente. E poi, se non piace a me il modo risentito, non piacerà neppure alle creature. Uno che parla, che tratta di cose anche di Dio con modi non dolci e pacifici, è segno che non tiene le sue passioni ordinate. E chi non tiene se stesso ordinato, non può ordinare gli altri. Perciò tenta tu a tutto ciò che non sia dolcezza e pace se non vuoi disonorarmi. Allora, qui oggi le meditazioni sulla Divina Volontà sono sorprendenti, perché ogni santo giorno, ogni santa mattina, leggendo e quindi poi meditando, perché è molto diverso la lettura fatta in contesto di meditazione, questa è una mia esperienza personale, dalla lettura fatta in contesto di lettura, quindi che tu inizi certamente a leggere con attenzione, ma poi ci metti punto, no? Quando il brano è da meditare, non lo so, arriva con delle tinte, con delle sfumature, con delle caratteristiche illuminanti assai più profonde. E la reazione che provoca è oggi veramente stiamo dinanzi a punti focali, fondamentali, lo provoca anche oggi, specialmente l'ultimo paragrafo che abbiamo fatto, qui bisogna chiusare nuovamente proprio Francesco, questo bisogna non metterselo bene in testa, ma di più. E attraverso questo schermo di questo brano invito chiunque farà questa meditazione a leggere tutto quello che fa e tutto quello che fanno, tutto quello che si fa intorno a noi. Perché dove non c'è pace e dolcezza, Gesù ha detto esplicitamente, poi lo riapprofondiremo, anche se si trattasse di cosa grande, di mio onore, di mia gloria, io non voglio e non approvo quei modi. è tassativo Gesù. Quindi anche se ci andasse di mezzo la sua gloria, il suo onore, una cosa grande, non approva quei modi che poi mediteremo. Andiamo con ordine. Prima cosa, l'ubbidienza, ancora. L'ubbidienza sappiamo che cosa è, l'ubbidienza, questo ricordiamolo sempre, è ubbidienza a Dio e ai suoi voleri. Questo è sempre, i classici dicevano il Princeps Analogatum di ogni forma di obbedienza. E dove si manifesta la Divina Volontà noi non dobbiamo capire più niente, d'accordo? Se uno vuole vivere nella Divina Volontà, ma anche qui certi gradi di obbedienza, come dire, sono ben al di sotto, insomma, della vita nella Divina Volontà perché integrano la vita cristiana. D'accordo? Quindi dove c'è la Divina Volontà, per esempio, i comandamenti, ma lì capite? Cioè, noi non possiamo capire più niente. E facciamo qualche esempio di attualità, no? Perché molte cose che oggi sono considerate un optional o proprio che sono trasgredite alla grande, sono questioni di comandamenti. Il quarto comandamento dice onora a tuo padre e a tua madre. l'onore è qualche cosa che è più del rispetto. D'accordo? Perché l'onore è quel senso, diciamo, è la percezione che sto dinanzi ad uno più grande di me e che non posso trattare come uno qualunque, come un amico, come un fratello. È mio padre, è mia madre. L'onore prescinde dal merito della persona investita dell'onore perché dipende dal ruolo che quella persona ha nell'ordine divino per divina volontà ed è un ruolo di autorità. Usiamola questa parola. Autorità non vuol dire dittatura o legittimazione a fare qualunque cosa ma è un ruolo di autorità. In teologia classica i genitori si chiamavano i superiori e si dicevano che i superiori tengono il posto di Dio non nel senso che sono padri eterni che non sbagliano mai ma nel senso che la loro funzione è quella divina rappresenta Dio. Ora se uno apre il Catechismo della Chiesa Cattolica non nei trattati del Medioevo vedrà che ciò che si dice per i genitori vale per estensione per una serie di categorie di persone che oggi sono da tutti quotidianamente messi sotto i piedi con la massima noscialanza per esempio i governanti a prescindere dal colore politico che hanno cioè nella Camera dei Deputati non voglio fare politica adesso si chiamano onorevoli non perché sono persone sante tutte o stimabili o corrette o oneste ma perché la funzione che occupano che è una cosa elevata anche se la persona fosse assolutamente incosciente o indegna anche di stare lì è degna d'onore perché sta curando la cosa pubblica sta facendo un servizio di per sé alla collettività ha nelle mani la vita delle persone quindi dirgli onorevole glielo ricorda anche a lui sta attento a quello che fai perché Dio ti giudicherà con maggiore rigore perché tu stai in una posizione dedicata dalle tue azioni dipende il bene o male degli altri attenzione è Dio però che giudica in maniera più elevata non noi capito non gli rendiamo onore preghiamo per lui certamente ubbidiamo a tutte quante le cose che sono giuste e legittime perché nei confronti della legge umana ci sono delle grosse limitazioni però è uno stile non parliamo poi oggi anche in certi ambienti di chiesa dell'onore che si toglie e lì oltre che l'onore in certi casi c'è anche qualcosina di più è la differenza per la sacralità della persona e delle funzioni oltre che per l'oggettivo autorità che hanno sono nei confronti dei ministri tutti i sacri ministri dal più piccolo al più grande e noi non possiamo se siamo credenti uniformarci alla mentalità dominante che vedendo tante cose spara e getta fango contro i sacri ministri dal loro punto di vista facciano pure insomma ma noi non possiamo non dobbiamo certamente in nessun modo assecondare non è approvare nulla anzi condannare i fatti e il peccato fermissimamente e senza nessuno sconto quando ci sono cose gravi è dovere anche di un fedele non sbraitare ma avvertire le autorità ecclesiastiche competenti perché prendano misure disciplinari anche severe nei confronti di qualche fatto oggettivo ma rimane l'onore dovuto a quella persona cioè questo è un discorso che rientra perché dentro l'onore rientra anche l'ubbidienza certamente l'ubbidienza alle autorità umane termina nella eventuale trasgressione da parte di un'autorità umana della legge di Dio ma anche questo deve essere un fatto oggettivo cioè se la legge dello Stato consente la legge di praticare l'aborto in una clinica e un medico è cattolico e non vuole cooperare con questo deve fare l'obbidione di coscienza non è un optional perché non può come dire nascondersi dietro la legge fare della legge un paravento per giustificare una cooperazione formale ad una cosa che non è consentita dalla legge di Dio ma questo è un caso oggettivo e reale di trasgressione perché negli altri casi anche se la legge è gravosa dobbiamo uniformarci quindi se vogliamo starne la divina volontà attenzione uno stile è differente da questo deve essere percepito dalla persona come non compatibile con la volontà divina Gesù stava sottomesso ai genitori stava sottomesso alle autorità del suo tempo San Paolo scrive stiate sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore quindi non ci si può per esempio sciacquare la bocca di divina volontà o presentarsi come super cristiani o cattolici col K e avere degli atteggiamenti disinvolti o trasgressivi o sprezzanti nei confronti di queste persone non si può e bisogna ritenere come certamente contraria la volontà di Dio ogni atteggiamento contrario e fare così significa blindarsi dice Gesù dentro un muro invincibile perché contro l'ubbidienza diavolo non vale non c'è nessuna possibilità di ingresso da parte sua e contro questo stile secondo paragrafetto non voglio importantissimo santificare cioè stare uniti con Gesù in tutte le azioni questo è l'H24 della vita della divina volontà che dobbiamo mettercene anche questo bene in testa perché vedi qui Gesù dice chiaramente dice guarda che io ti voglio unire non solo quando stai a pregare o quando soffri esattamente io sto a fare una preghiera lo vado a messa prego e mi unisco con Gesù mi unisco con la divina volontà è ovvio sto pregando oppure qualcuno un po' un po' di meno sto soffrendo fra Gesù eccetera eccetera non ci siamo ancora capiti qui non si tratta di qualche istante qui si tratta Gesù fa alcuni esempi ne possiamo fare altri facciamo un pochino di esempi stai davanti al computer lavorando al computer ti devi unire alla divina volontà stai facendo uno sport stai facendo una partita di pallone giochi a tennis quello che ti pare e ti unisce la divina volontà stai vedendo una cosa lecita nella televisione e ti unisce la divina volontà ascolti un po' di buona musica e ti unisce la divina volontà fai la doccia e ti unisce la divina volontà ti vesti ti lavi parli con una persona ti unisce la divina volontà stai facendo un lavoro qui lo dice Gesù se lavori di ogni genere ti unisce il discorso che qui si va verso l'H24 cammini guidi la macchina oggi non possiamo fare tantissimi di esempi vai in bicicletta che ne so adesso qui tutte le circostanze attenzione questa operazione non è un un elegante questa operazione chi la cura vuol dire che ha capito cosa significa vivere nella divina volontà perché questo non è un fatto tuo privato u che bello sto sempre con Gesù e così divento santo e stiamo sempre insieme certo questa cosa c'è ma Gesù dice una cosa fondamentale io nella mia umanità ho contenuto i respiri di tutti i movimenti le azioni i pensieri di tutti e questo contenimento non era una cosa fatta tanto per farla perché la vita del verbo incarnato ogni atto era santificazione divinizazione riparazione per gli atti di ogni essere umano presente passato futuro se tu operi in Gesù in tutto cosa succede lo dice Gesù tu verrai ad abbracciare a contenere tutte le creature in te cioè capito cioè io gioco a pallone e lo faccio unito con Gesù e da Adamo fino all'ultimo uomo sono contenuti nel mio gesto del giocare a pallone e il mio operare si diffonderà bene di tutti i calci che do una palla signor sì signor tenente signor sì questo sta dicendo Gesù questo è vivere una dina volontà e attenzione anche nonché gli altri non mi daranno niente io prenderò tutto da te cioè quel gesto da Gesù la gloria la riparazione l'onore di tutti i gesti che avrebbero potuto dovuto fare gli esseri umani con quell'azione indifferente o buona o lecita e non l'hanno fatto e procurano a ciascuno di essi un bene reale anche se da molti sprecato o quasi impercettibile superiore a qualunque altra opera che tu potresti fare e io quando feci le catechesi su questi punti cerchai di essere chiaro questo ce l'ho bene in testa per cui la persona più insignificante di questo mondo d'accordo il casalingo la persona sola la persona che ha avuto una vita di rifallimento si è trovata senza il marito senza i figli abbandonata che sta buttata dentro uno spizio pensiamo alle posizioni più peggiori d'accordo o la persona che per tante circostanze della vita si ritrova da sola sta deve accudire i genitori non può e c'è una vita non fa niente d'accordo cioè la portata santificante che c'è una persona del genere è superiore a quella del papa adesso non voglio dire cioè si capisca il cioè perché un atto fatto nella divina volontà può avere di per sé un valore addirittura più santificante delle più belle opere cose che possa fare un pontefice che ha contatto che sta a contatto con miliardi di persone attraverso quello che fa e quello che dice questo è il senso quindi nessuno è cioè capite anche il senso della vita che uno rischiava nessuno è inutile come offre che fai nella tua solitudine spazi per terra prepari da mangiare ma che ne so ma mamma fai una preghiera in più ti tieni vivo riordinando la casa tutto 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 luisa piccarreta come tutti sanno non era una suora non era una monaca non era una moglie non aveva figli faceva quattro lavoretti tanto per farli insomma per non stare passava la larga parte della giornata pietrificata perché questo è se uno si studia la vita e sentiamo che cosa gli dice Gesù e anche comprendiamo quindi in questo senso l'importanza della vita interiore ecco questa è una meditazione per cui il resto ce lo dice lo Spirito Santo e andiamo all'ultimo paragrafetto sulla dolcezza e sulla pace nella Sacra Scrittura c'è scritto che il nostro Signore promise al suo popolo dell'antica alleanza una terra promessa dove scorre latte e miele è chiaro che il latte e il miele sono evidentemente delle immagini che il miele sia la dolcezza ci arriva chiunque insomma perché il miele è la dolcezza per Antonomasi ma il latte è la pace il latte è la pace pensiamo adesso che arriva piano piano nel tempo di avvento e di Natale a tutte quante le raffigurazioni della lactatio virginis di Maria Santissima che sta allattando Gesù con il bambino che si vede proprio attaccato al suo seno la regina della pace che dava la pace al principe della pace oltre al gesto molto molto reale che Gesù ha compiuto un gesto di infinita delicatezza il gesto materno per Antonomasia il gesto di abbandono filiale di dipendenza filiale per Antonomasia un gesto bellissimo pensare anche a Gesù che era vissuto è come dietro questa figurazione Gesù dice attenzione pace e dolcezza io sono tutto pace e dolcezza Gesù è la fotocopia della Madonna le anime mariane non è che questa cosa non se la devono ricordare con tutto il rispetto e chiaramente comprendendo il senso iperbolico di quello che uno sta dicendo chi è mariano il doppio di questo deve vivere il doppio perché la Madonna è la fotocopia assoluta di Gesù e Gesù si è nutrito di Maria quindi lui è il pacifico è il mite per Antonomasia perché l'ha quasi respirata questa cosa oltre che nei meandri della sua divinità a cui la sua umanità era sostanzialmente unita ma anche dall'ambiente in cui ha vissuto dall'essere tutto di Maria sull'anime mariane che dicono e che sono ma che anima mariana sei cioè adesso non è che vuole fare cioè certamente vuoi bene alla Madonna e la Madonna è contenta della tua devozione però tu devi sentire l'urgere di questa cosa dentro di te che ti devi modificare su questo aspetto devi correggerlo se dovesse essere altro tu non mi onori dice Gesù e dice Maria quindi mostrando fosse anche l'ombra minima di un animo risentito e di inquieto pensiamo alle persone facili al risentimento che si fa di mezza cosa che già un miracolo se dominano l'esterno ma traspare chiarissimamente il risentimento interno non va bene questa cosa qui l'inquietudine in tutte le forme ma come come si fa a non essere inquieti qui succede il finimondo qui è successo questo qui è successo questo qui adesso arrivano tutta la monnezza che gira sul web adesso arriva il finimondo adesso arriva il castigo ma ma dico ma ma testa testa e cuore dice una canzone di Eros Ramazzotti fa funzionare il cervello Dio non vuole che noi perdiamo la quiete non vuole che noi perdiamo la pace o che viviamo nell'angoscia non vuole ecco dice che un animo soltanto che sia un minimamente inquieto non lo onora e rincara ah no io devo fare le battaglie no no qui bisogna fare le battaglie qui bisogna fare qualcosa perché qui il mondo va a rotoli la chiesa va a rotoli dobbiamo fare le battaglie ah dobbiamo fare le battaglie qui Gesù c'è scritto che ama tanto questa dolcezza e questa pace che la donta che si trattasse di cosa grande di mio onore e di mia gloria io non voglio non approvo i modi risentiti violenti pensiamo a quanta violenza verbale che c'è in giro violenza verbale che attacca spesso e volentieri anche i soggetti di cui abbiamo parlato prima focosi essere focoso non è una cosa santa il fuoco te lo devi moderare noi possiamo essere focosi solo nei rapporti intimi con il nostro signore la lavo tutto il fuoco te pare fuoco d'amore però non fuoco di risentimento e basta poi il resto il fuoco deve essere spento attenzione Gesù dice non approvo mai quindi eh no 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 ma qui ci state in mezzo che siamo matti no 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 questa cosa è troppo importante no Gesù non approva mai mai mettiamocelo bene in testa mai mai quindi appena tu fai questo immediatamente incorre nella disapproduzione di Gesù subito ma l'ho fatto per questo motivo non gli interessa non lo devi fare così fosse anche la cosa più santa del mondo io approvo i modi dolci e pacifici ma questo lo stima anche San Paolo quando parla della testimonianza del Vangelo tutto questo sia fatto con dolcezza e con rispetto e corretta coscienza e terattimorio se non ricordo male solo la dolcezza è quella che incatena i cuori in modo da non potersi sciogliere dobbiamo dire qualche cosa deve trasparire il miele dal nostro parlare ma noi proviamo un attimo a pensare ma noi siamo contenti quando ci sentiamo aggrediti insultati è il modo supponiamo anche che tu dovesse dire una cosa e che c'è ragione d'accordo c'è un problema reale bisogna intervenire bisogna fare qualcosa ma come fai qualcosa? ma tu saresti contento se venissi aggredito attaccato umiliato mortificato diffamato sbattuto in prima pagina del giornale sulla vetta delle notizie dei social eccetera eccetera con insulti e cose di questo genere ancora più che tu fossi come dire un personaggio pubblico ma ce lo siamo dimenticati tutto ciò che volete che gli uomini facciano a loro fatelo anche voi a loro tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi fatelo anche voi a loro l'ha detto il nostro signore Gesù Cristo nel Vangelo oppure no? se tu agisci con dolcezza e con pace a tempo e luogo opportuno le dici le cose in questo modo forse chi ti ascolta penserà forse la pagatezza la dolcezza il non offendere mai nessuno non mancare di rispetto a nessuno per nessun motivo per nessuno e Gesù specifica ancora attento se non mi piace a me il modo risentito figura dalle creature e ancora uno che parla attenzione che tratta di cose anche di Dio con modi non dolci e pacifici è segno che non tiene le sue passioni ordinate non che è pieno di zelo attenzione stiene le sue passioni non ordinate e chi non tiene se stesso ordinato non può ordinare gli altri e non può autoinvestirsi nel compito di castiga popoli e castiga matti non può non può non è legittimato a farlo attenzione questo è un pezzo proprio da come dire da cineteca è più che mai attuale concludiamo ricordando queste parole di Gesù che sono rivolte a me e a chiunque ascolta questa povera meditazione che è un eco di questo scritto a chiunque legge questo passo e ci crede 3 dicembre 1906 numero 70 ma qui Gesù non fa altro che parafrasare il Vangelo cioè queste cose qui se uno pensa al Vangelo non è che sono cose strane dice io conoscevo un altro Gesù adesso oggi questo si è messo in testa che bisogna essere dolci e pacifici ma questo è il Vangelo questo qui a meno che uno non se lo vuole rifare a propria immagine e somiglianza perciò attenta tu attento tu a tutto ciò che non sia dolcezza e pace se non vuoi disonorarmi capito e tu te pensi che io ho ucciso per la prova e quindi Gesù mi dirà bravo Gesù non ti dice bravo ma come niente ti dice guarda che tu mi hai disonorato tu mi sembravi un cane arrabbiato non un agnellino pacifico mio discepolo che porta quello che deve portare nel rispetto nella dolcezza nella pace nella calma nella concordia eccetera quindi questo che è una leva con cui il diavolo inganna le anime che agiscono in questo modo perché gli fa credere che danno gloria a Dio spezziamo questo laccio e questa menzogna non si dà gloria a Dio si disonora Gesù facendo così e Gesù ce lo farà notare e non è la stessa cosa certamente aver sentito queste cose non averle sentite non fa niente quello che è stato nel passato nel senso che quando nel nostro passato c'è qualcosa che ha trasgredito queste cose ci mettiamo ciascuno davanti al Signore e facciamo tutti quanti mea culpa le confessioni e chiediamo scusa a Dio e al prossimo se è necessario non importa quello che è stato fatto nel passato importa quello che faremo da oggi in poi perché sul passato abbiamo soltanto il potere di portarlo dinanzi alla divina misericordia a riparare se possibile il malefatto e chiedere perdono ma sul presente e sul futuro abbiamo il potere di cambiare rotte e questo è il Signore se siamo fuori di questi parametri certamente ce lo chiede se vogliamo vivere nella divina volontà possiamo proprio stare sicurissimi che ce lo chiede altrimenti cambiamo spiritualità cambiamo orizzonti facciamo la spiritualità dei templari che ne so adesso la prima sciocchezza che mi viene in mente ma non quello che è la vita nel divino volere che è tutto dolcezza e pace e pace I padri della Chiesa o Santa Vergine Maria tante volte dicevano che la terra promessa dove scorre latte e miele era anche una figura della tua santissima persona. Meditare sull'ultimo brano che abbiamo sentito significa anche farci una assai realistica rappresentazione viva di chi sei tu e come traspare chiarissimamente in tutte quante le tue autentiche manifestazioni, vere manifestazioni con cui hai mostrato la bontà, la dolcezza del tuo cuore e la pace sovrana che tu vivi, trasudi e porti e inviti a vivere i tuoi devoti. Insieme al tutto in Gesù e in te, nella coscienza della sua grandezza, aiutaci davvero a fare in modo che la nostra vita proprio si incammini senza tornare indietro risolutamente su queste strade che sono quelle che ci portano alla certezza di una vita cristiana autentica e tendente alla fusione con i divini voleri. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.